Sono Loredana Longo, sono candidata al collegio plurinominale della Camera Lazio 103, sono anche un'edutatrice degli asilini di Ciampino. Abbiamo sopportato 19 mesi di esternalizzazione, abbiamo subito un licenziamento, ne stavano arrivando altri e siamo riusciti a scongiurare soltanto grazie alla lotta e all'unione di tutte le lavoratrici. Continuiamo a portare avanti con forza la nostra idea dei servizi pubblici, di una scuola che sia in qualche modo libera dalla riforma che anche è stata messa in campo della buona scuola che di buono non ha assolutamente nulla e siamo sempre nelle piazze, nelle strade a gridare i nostri diritti dei lavoratori, degli utenti che sono praticamente stati abbandonati completamente da questa politica di centro-sinistra, soltanto il popolo può rappresentare le esigenze e i bisogni di tutte le persone che oggi voce non ne hanno più.